continuiamo sto registrando ok quindi adesso fondamentalmente allora vi ho messo online i file che giustamente qualcuno mi ha chiesto così avete dei file su cui iniziare a pacioccare se necessario se lo ritenete opportuno ok e noi adesso continuiamo e continuiamo a fare modifiche a questo form fino a farlo funzionare quindi fino a fare in modo che riusciamo ad aggiungere un nuovo elemento nella lista delle risposte ok quindi dobbiamo far funzionare tutti e quattro i campi in modalità controlled quindi dobbiamo avere quattro stati uno per ogni campo del form quindi controllo del form come le chiamiamo in maniera un po' più appropriata quindi metto a posto un po' di diciamo di pasticci che ho fatto nel frattempo quindi il tuo uppercase il maiuscolo lo tolgo lo useState Enrico lo resetta alla stringa vuota e ci occupiamo di un terzo campo che era lo score set score useState allora se non mettiamo niente diventa undefined quindi non visualizzerà nulla ma io vi consiglio se non sapete da cosa iniziare cominciate con la stringa vuota poi aggiustate al bisogno ok allora score è questo quindi value score on change handle score quindi qui function no il submit lasciamolo sotto così teniamo insieme function handle score beh facciamo una una arrow function tanto per cambiare fa lo stesso ma così variamo un po' qui dentro possiamo fare set score have target value allora questo per ora è un campo text quindi posso scriverci tutto anche non dei numeri no verifichiamo solo che funzioni testate 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 sempre magari teniamo solo la console aperta allora score 3 opla no sto scrivendo sotto possiamo scrivere quello che vogliamo è un campo text in questo momento abbiamo messo un campo text no boh ci può stare devo decidere come voglio gestirlo allora c'è il campo number ma prima di mettere il campo number voglio farvi vedere una cosa poi mettiamo il campo di tipo number noi col for control abbiamo il completo controllo su quello che viene scritto ok quindi se a noi va di scrivere una handle score in cui facciamo come prima no const v uguale ev target value no e poi siamo noi che vogliamo decidere se un numero lo lasciamo scrivere se no no possiamo anche farlo eh quindi if parse int v non so cosa ritorna in apparsi int dobbiamo andare a cercare quindi mdn parse int eh ho squagliato parse si no c'era non c'era no ho l'allucinazione vabbè parse int eh ritorna un intero e se però non va o none ok quindi vediamo un po' quindi if not is none parse int ehm set score eh beh dovrei rifare parse int ma vabbè rifacciamo per sint dai v sono a posto le parentesi si non ci va solo il punto e virgola giusto no parse int se no manca una tonda no punto e virgola ci può stare ecco va bene allora se è un numero lo setto se no no quale sarà l'effetto su questo campo allora andiamo a provarlo che è la nostra applicazione da storia la ricarico vogliamo anche la cosa allora per ora è vuoto il valore iniziale è impostato a prescindere da questa funzione eh questo handler quindi posso sempre scriverci quello che mi pare poi se ci scrivo dei numeri vedete adesso ci metto dei numeri oh funziona sto premendo delle lettere e lo dico perché non vedete cosa premo e non funziona no quindi non mi scrive le lettere mi tiene il numero eh che avevo scritto perché cosa fa fa il parse viene fuori un numero ok allora setta quel numero guardiamolo pure anche sul components se siete in dubbio di cosa succede andate a vedere eh 3 4 5 4 io qui vi assicuro sto scrivendo delle lettere e non cambia nulla adesso cancelliamo tutto boh numeraccio no io voglio scrivere 3 no anzi no 3 c'è già scritto voglio scrivere 8 cancello tutto continuo a cancellare non si cancella eh perché perché nello mio handler non ho previsto che ci sia la stringa vuota come valore valido deve esserci un numero se non c'è il numero non mi lascia andare avanti cioè non mi imposta stringa vuota no che il campo vuoto di tipo text no che io vorrei usare no e allora che devo fare devo fare 8 tornare indietro e fare così esperienza pietosa per qualsiasi utente no cioè lo facciamo noi perché sappiamo cosa sta succedendo ma un utente normale vuole cancellare e mettere il numero che vuole che vuole no quindi va bene inform control va bene riuscire a scrivere quello che vogliamo noi modificare l'input dell'utente come vogliamo noi ma dovete sempre fare attenzione tantissima attenzione a tutti i casi che possono succedere quindi diciamo ci sono vantaggi e svantaggi nel fare questo tipo di operazioni mi raccomando è questa cosa qua mi capita spesso all'esame non è una bella cosa da far capitare certo non vi procura l'insufficienza ecco però come dire se voi fate un'applicazione così la date al vostro cliente a un utente normale non sono contenti perché un utente normale ragiona in termini di ok allora adesso cancello e ci scrivo 5 cancello e ci scrivo 7 no come siete abituati a scrivere normalmente con la tastiera questa cosa dovete consentirla o la consentite complicando il vostro event handler quindi if not v set no facciamo stringa vuota ma se if v uguale uguale stringa vuota set cos'era score stringa vuota else if va bene si può fare è chiaro che scrivere i form in questa maniera poi viene anche un po' lungo no quindi adesso ricarico scrivo dei numeri le lettere non funzionano cancello e posso cancellare tutto in questo momento c'è la stringa vuota perché l'ho consentita esplicitamente però consente esplicitamente la stringa vuota devo ricordarmene quando poi andrò a fare l'add perché probabilmente voglio un numero quindi quando faccio poi l'add non ho forzato quel campo ad avere un numero e quindi vuol dire che qualcosa dovrò fare per assicurarmi che quello sia un numero e se non è un numero devo gestire la situazione messaggio di errore adesso non so cominceremo con un console log e poi facciamo apparire qualcosa però devo essere cosciente di tutti i casi che possono presentarsi allora siccome fare questa operazione non è il massimo io vi faccio il commit così vi resta nella storia nella storia dei commit intendo gestione numero dove è andato gestione numero fare tutto questo lavoro è chiaramente pesante e molto error prone cioè rischiate di fare pasticci perché non avete considerato un caso che sicuramente è quello che io provo all'esame e nel senso che appunto vabbè adesso qui è facile la stringa vuota però fatto che l'utente scriva e non compaia diciamo tendenzialmente dà molto fastidio come interfaccia utente perché? perché l'utente non ha fatto la vostra applicazione l'utente si aspetta di usarla come tutte le applicazioni allora come possiamo gestire meglio questa cosa? se è ragionevole potete usare un controllo di tipo diverso anziché un text mettiamo number come faccio a sapere che esiste? cercate su inter cercate nel react bootstrap nei form ci saranno tutti i tipi possibili per il form control ok? type number name score value score ok questo ci sta io adesso lo salvo lo ricarico vedete cosa mi è successo? mi è successo che adesso mi viene fuori un controllo di tipo numero e che già automaticamente mi impedisce di scrivere no non mi impedisce di scrivere perché? perché gliel'ho settato type number sì l'ho scritto sopra no ho scritto qui perché non mi impedisce di scrivere questa roba qua? finisce nello stato no bisogna sapere come funziona il controllo di tipo number vi lascia scrivere quello che volete ma poi protesterà quando sottomettiamo il form ok? però notate che nello stato non c'è finito quello che ho scritto perché quello che ci finisce nello stato è controllato dall'handler ok? quindi io lo set score la faccio solo se ci metto se ci metto il numero ok? quando capita così allora adesso cancello mi metto un numero vedete che se mettiamo un numero ci finisce il numero no? mi lascia scrivere la stringa vuota quindi questo funziona mi lascia anche scrivere degli altri caratteri questo mi piace un po' meno vabbè ma se lo volete veramente impedire dovete dovete diciamo in qualche maniera cambiare l'handler per esempio qui se non è un numero lo faccio altrimenti mi manca l'altrimenti questo era il caso altrimenti e devo decidere che fare no? metto stringa vuota boh se non si parte come int però poi mi sparisce tutto insomma devo decidere un attimo che fare io vi consiglio almeno all'inizio prima per prendere confidenza diciamo in questo momento lasciamo fare tutto al no al al campo e facciamo semplicemente set score no parlando così non mi piace facciamo set score v ok perché ok va a posto va bene lasciamo scrivere tutto quello che vogliamo e ce ne occupiamo dopo cos'è che ho fatto ah no qui è semplicemente di nuovo come prima ogni tanto va ricaricato tutto spero se abbiamo salvato sì ok quindi quindi cosa possiamo scrivere ok quindi ce ne occuperemo dopo qui diciamo questi bottoncini non sono fondamentali però come dire a seconda di quello che usate per esempio react bootstrap vi fornisce questa interfaccia con questi bottoncini va bene ce li teniamo ok se non li vogliamo dobbiamo farci il nostro campo texte come facevamo prima gestirci a mano tutti i possibili casi nell'end ok occhio solo che non è che perché mettiamo un numero dobbiamo mettere type uguale number questo è diciamo più una cosa da corsi di fondamenti di informati cioè non è che tutto ciò che appare come numero è un numero cioè un numero di telefono non è un numero da questo punto di vista il numero della carta di credito non è un numero quindi sono stringhe ok e non ha senso consentire di modificarli in questa maniera dove faccio più uno meno uno perché non so magari il voto quattro ok voglio fare sei faccio due clic diventa sei mi raccomando questo è un altro errore comune che vedo spesso nei nei progetti consegnati cioè se ho un numero di carta di credito non è che posso impostarlo a forza di clic cioè lo devo poter scrivere se validatelo alla fine se volete validarlo se no lì ci accontentiamo anche di nulla ma nel senso li mettiamo finti l'importante che so per esempio lì è il numero di caratteri 16 caratteri sono 16 numeri va bene oppure che so il cap quindi il codice di ovviamento può stare 5 numeri ma non con la cosa così che insomma se lo giriamo cosa ci cambia cioè è un numero da scrivere ma è come una stringa ok quindi però adesso ci occupiamo poi di cosa succede quando non c'è un numero nel form una volta che abbiamo finito sistemiamo l'ultima cosa che è la data ecco mi preme farvi vedere perché di nuovo sorgente di potenziali problemi e comunque ci fa riflettere un pochino quindi abbiamo ancora la data che abbiamo lasciato per ultima cost date set date perché è quella su cui diciamo possiamo ragionare un attimo in più mettiamo un attimo la stringa vuota facciamo diventare il form controlled quindi value uguale date on change si facciamo così on change mettiamo la mettiamo la funzione qui si ev come sotto set date ev target target date no value scusate perché target è sempre solo value noi siamo noi che decidiamo di metterlo in set date nel nostro stato ok mettiamo i nostri file perché non si chiude un po' di più va bene funziona proviamo un'idea ce l'ho però allora riproviamo com'è noioso vai ogni tanto se che devo rifare il progetto senza quella svc vabbè cosa gli è preso adesso fermiamo il server e lo rilanciamo npm run dev ok va bene allora come faccio a modificare la data qui ho usato un type date potrei anche usare la stringa io ve lo sconsiglio a meno che non dobbiate metterle a date non so quanto ma nel passato ma tanto voglio dire si possono selezionare in maniera abbastanza semplice io vi consiglierei di usare sempre il controllo di tipo date per le date che è la cosa più semplice all'inizio ha il valore stringa vuota quindi se noi andiamo a cercare il valore dove answer form c'è la stringa vuota la stringa vuota viene renderizzata in questa maniera dal controllo date di react bootstrap cioè un valore non definito ok nel momento in cui andiamo a impostarlo quindi prendiamone 1 che ne so 16 ecco viene fuori in questa maniera cos'è? è una stringa ok quindi siccome il controllo di react bootstrap è ragione in termini di string noi quello che dobbiamo passare come value è una stringa e quello che recupereremo da long change sarà una stringa quindi io vi consiglio di tenere nello stato una stringa ok e ha il bisogno di convertirla in un oggetto di tipo data noi usiamo il dayjs quindi un oggetto dayjs quando avete bisogno di farlo diventare una data per farci delle elaborazioni e delle cose sopra ok tra l'altro tenerla sotto forma di stringa ci dà anche la possibilità di avere la stringa vuota ok qui non so se posso editarlo forse si si va beh questa è una feature del debugger ci dà anche la possibilità di gestire la data non definita che non è una cosa così scontata se io ci mettessi dentro un oggetto quando vado a passarlo nel value date del controllo devo essere sicuro che il mio controllo gestisca l'oggetto date date che passo cioè il dayjs eccetera ma react bootstrap non lo gestisce perché? perché non ne vuole sapere perché la maggior parte dei controlli del form gestiscono stringhe ok quindi noi se volessimo veramente tenerci nel nostro stato un dayjs vuol dire che tutte le volte che lo andiamo a passare qui dobbiamo convertirlo in stringa quindi punto format con la stringa che vogliamo da anno mese giorno trattino mese trattino giorno perché lo vuole in quel formato lì e tutte le volte che facciamo il set dobbiamo riconvertirlo in un dayjs però ci siamo complicati l'endler perché se la data non è selezionata non riusciremo a convertire una stringa vuota in un oggetto dayjs quindi allora per complicare tutto quanto in questa maniera quello che vi consiglio io è teniamo stringa e poi lo convertiamo in dayjs cioè nell'oggetto che vogliamo al bisogno ok un po' come stiamo facendo tra l'altro sullo sullo score ok per ora lo stiamo tenendo come stringa abbiamo delegato in questo momento la gestione del numero al controllo del form ok adesso abbiamo i quattro stati e c'è il form con quattro elementi di tipo controlled che vengono aggiornati ogni volta che cambiano e quindi siamo pronti diciamo così a fare in modo di prendere questi valori e aggiungerli allo stato dell'applicazione che è quello della lista delle risposte cioè io vorrei che schiaccio questo add e mi compaiono qui nella lista delle risposte in fondo da qualche parte non so dove le voglio inserire quindi cerchiamo di ragionare come deve funzionare questa parte allora per far funzionare questa parte prima di tutto devo fare in modo che la pressione del bottone add si venga eseguito del mio codice che va a prendere lo stato dell'applicazione che vi ricordo non è nel form ma nel table nella tabella vada a cambiare quello stato aggiungendo un elemento quindi questo elemento prima di tutto qualcuno lo deve creare questo oggetto che contiene data cos'era data testo della risposta autore score eccetera qualcuno lo deve creare e poi deve essere aggiunto modificando lo stato nel table ok tutto ciò deve scatenarsi alla pressione del bottone add per ora quando premiamo add non succede nulla cosa succede quando premiamo add allora io ho fatto un bottone di tipo submit anche per farvelo vedere perché finora non ne abbiamo visti un bottone di tipo submit è un bottone un po' speciale cioè è un bottone che può essere premuto come gli altri ma siccome è di tipo submit quando viene premuto dentro un form scatena l'evento on submit ok l'evento submit noi l'abbiamo agganciato per fare il prevent default che è la prima cosa che vi raccomando di fare la seconda cosa è vedere come funziona e poi lo sistemiamo per farlo funzionare come desideriamo noi cioè per aggiungere premuto submit ok adesso riprovo qui sotto metto la console questa volta che ancora sta roba perché non si canceva ah perché faccio add vedete che viene fuori premuto submit poi si duplica la cosa quindi ok premuto submit e così via ok ogni volta che lo premo viene la sottomissione del form che in condizioni normali ricarica tutta la pagina perché va a prendere informazioni e manda al server noi abbiamo fatto il prevent default per evitare questo perché adesso lo gestiamo con il nostro codice e il nostro codice cosa fa andrà a creare un oggetto da inserire in quel stato della tabella quindi qui sotto andiamo a creare un oggetto diciamo const è uguale aperta graffa e cosa ci mettiamo dentro ci mettiamo dentro le proprietà coerenti con quelle che abbiamo in table cioè noi dobbiamo andare ad aggiungere un un elemento a questa lista questa lista è la lista delle risposte e la lista delle risposte era fatta in questa maniera id text respondent score date ok quindi allora cominciamo date date è il più difficile uffa vabbè text 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 ok che vuol dire text text creiamo una proprietà di nome text due punti e ci mettiamo dentro il valore text che è quello dello stato ok poi creiamo respondent respondent le abbiamo chiamate nello stesso maniera potevate gli stati li potete chiamare come volete le proprietà no perché devono essere coerenti con quelle degli altri oggetti sennò poi tutto il resto del codice non funziona più cosa avevamo lo score a questo punto se lo score me lo aspetto numerico vorrei che fosse numerico se io ho una stringa qui devo convertirlo parse int score ok stessa cosa per la data date js di date mi raccomando quelli che sono qui a destra sono i valori dello stato che vi ricordo siccome il form è controlled cioè abbiamo fatto tutti gli elementi controlled sono sempre aggiornati ok va bene quindi e facciamo così console perché non siamo ancora pronti del tutto stampiamo e e vediamo che cosa succede allora add premuto submit e poi dayjs not defined va bene ok questo me lo sono scordato non era quello che volevo proprio farvi vedere ma tutte le volte che usate qualcosa nel file siccome questo è un file separato dovete ricordarvi di importarlo import dayjs no ok mi ha completato va bene questo non era esattamente quello che volevo farvi vedere ma vediamo il resto ok c'è l'oggetto l'oggetto ha anzi leggiamolo qua testo vuoto respondent vuoto score note number in questo momento c'è la stringa vuota il parse int mi ha fatto parse int stringa vuota che da note number e il date è un oggetto date anche se aprite andate a vedere cosa c'è e c'è invalid date dentro perché anche quella era una stringa vuota e potrei prenderlo aggiungerlo alla lista però ovviamente mi verrà fuori qualcosa che forse non ho previsto no perché non avevo previsto che la data fosse una stringa vuota cioè un oggetto con un invalid date e così via ok questo può capitare no perché perché nel momento in cui noi abbiamo deciso un certo formato di dati l'input dell'utente non è detto che sia completamente conforme a questo tipo di dato che io ho deciso cioè io voglio che la data sia settata voglio che ci sia un numero che corrisponde allo score e così via come faccio però a imporre queste cose o le impongo a livello di singolo controllo un po' come facevo prima con lo score voglio che sia un numero ma avete visto che era un po' complicato oppure nel momento in cui le informazioni del form devono essere usate vado a fare tutti i miei controlli ok quindi dove lo faccio lo faccio esattamente in questo momento cioè la end ho premuto il bottone si scatena il submit evito di contattare il server e però ho del codice che viene eseguito quindi qui dentro posso fare quello che desidero io quindi premuto submit ma prima di andare a creare l'oggetto fare l'aggiunta eccetera posso fare tutti i controlli che voglio no quindi if potete scrivere quello che volete date che so stringa vuota eh c'è un errore no e come faccio a dire che c'è un errore per ora più che console.log non posso fare no questo ci porta a un'altra considerazione no data non valida else aperta graffa e poi vi faccio tutto il resto quindi aggiustiamo formato quindi diciamo così cominciamo la data non è valida per ora stampo in console no quindi io faccio add data non valida e basta e poi il codice cosa fa era else non fa più nulla no non aggiunge però questa data non valida esce fuori nella console per ora abbiamo fatto un po' di debug noi non è la maniera con cui interagite con l'utente quindi cosa succede succede che dobbiamo trovare una maniera di comunicare con l'utente che c'è un problema allora ci sono solo due maniere o lo fa il browser il react bootstrap con i suoi controlli o lo facciamo noi lo facciamo noi come? inserendo un qualche messaggio da qualche parte nella pagina quindi un bel messaggio rosso dicendo c'è un problema c'è questo problema e così via cominciamo con farvi vedere un esempio di come possiamo delegarlo un pochino al browser per esempio se noi che so facciamo sulla data mettiamo c'è l'attributo su quasi tutti i controlli dei forum c'è l'attributo required che li rende obbligatori ok obbligatori vuol dire che non possono essere lasciati non settati ovviamente secondo il controllo il significato di non settato cambia ma per la data vuol dire non ho selezionato una data per un forum di tipo testo è vuoto ok required true ok quindi qui riprovo riprovo l'operazione ecco vedete che non è stato chiamato l'handler ma è venuto fuori questo messaggino please fill out this field chi l'ha creato chi l'ha creato l'ha creato il browser perché react ha fatto in modo di passare a questo attributo richiesto che si setti l'informazione nel controllo all'elemento html del browser tutti i browser moderni hanno di solito questa possibilità che reagisce in qualche maniera nel momento in cui state facendo la sottomissione del forma e i controlli non si possono validare cioè vuol dire che non sono valide dal punto di vista logico cioè io lo volevo settato e nessuno l'ha settato e mi viene fuori un messaggio diciamo coerente con la situazione questa è una possibilità diciamo accettabile non è forse il massimo perché perché se lì ci volevate scrivere qualcos'altro non potete se lo volete fare rosso verde blu non potete più che controllato dal browser non è di react non è di react di bootstrap react non è sotto il vostro controllo ok però diciamo che inizialmente tanto per provare diciamo all'esame è passabile se lo fate meglio è meglio però diciamo che 30 load non viene voglia di darlo se i form sono fatti così però diciamo che è passabile cioè uno si è preoccupato del problema vediamo di trovare un'alternativa ok potremmo mettere required da tutti e quattro abbiamo finito ma se faccio così non scriviamo il codice non vediamo l'alternativa e impariamo poco allora come facciamo su questo possiamo anche lasciare required va bene devo trovare una maniera di comunicare qualcosa all'utente dove scrivo ho bisogno di un posto dove scrivere devo crearlo questo posto devo pensare la mia interfaccia io avrò pensato la mia interfaccia all'inizio pensavo di fare il form e di finirla lì col form ho bisogno di un posto dove mettere un messaggio che l'utente possa leggere quando compila il form quindi devo ripensare la mia interfaccia vi succederà sempre quando fate il progetto per l'esame vi succederà sempre che avete fatto delle pensate poi mentre sviluppate ma che faccio in questo caso aspetta aggiusto faccio una casella dove si possono comparire gli errori faccio qualcosa devo far sparire questo che non ci avevo pensato mille cose vi capiteranno anche a noi capita allora io decido così come soluzione per ora ma abbastanza diciamo accettabile di far comparire un messaggio qui sopra all'inizio del form oppure potrei farlo comparire di fianco al bottone non lo so vedete voi insomma da qualche parte che sia visibile all'utente come faccio a far comparire qualcosa beh devo mettere qualcosa no quindi che so qui prima del form metto un qualcosa che compare o scompare no allora facciamolo comparire facciamolo fisso così lo vedete poi lo facciamo comparire solo al bisogno quindi diciamo io uso l'alert che è una cosa abbastanza carina di bootstrap react diciamo un riquadrino di testo colorato in cui potete scriverci quello che volete così è abbastanza facile da da visualizzare funziona un po' come il bottone variant danger cioè lo facciamo rosso e ci scriviamo attenzione errore così lo vediamo ok perché protesta di nuovo perché ho due radici alert e form quindi mettiamo il nostro solito fragment ok allora che è successo qua ho salvato alert forse non l'ho importato non l'ho importato alert ok ecco questa è l'aria che ha questo questo bannerino che vi da un messaggio di errore se no facevate un paragrafo ma di nuovo un po' grezzo nulla ci vieta di fare p errore se lo fate così visto che è già fatto è pronto per essere usato non ci costa nulla qual è il problema è che il problema adesso c'è sempre io non voglio avere una striscia rossa se non c'è nessun problema soprattutto quando sto iniziando a compilare il form un'altra delle cose che capitano all'esame è che non ho ancora scritto niente nel form apro questo form puff e viene fuori questa striscia rossa perché deve uscire rosso se non ho ancora fatto nulla cosa ho fatto di male non sono tutti i peccati capitali non è che andate non è che rimanete bocciati solo per quello però chiaramente distinguono un'applicazione ben fatta da un'applicazione un po' un po' così ecco allora come faccio a farlo comparire e scomparire il bisogno per fare questo ho bisogno di uno stato ok è uno stato dell'applicazione la decisione che un elemento dell'interfaccia compaia oppure no ok come la lista delle risposte come la lista dei vostri film il fatto che l'applicazione in una condizione di errore è uno stato ok e il fatto che sia uno stato mi va anche bene perché così react quando cambia lo stato esco dall'errore eccetera rifà render di tutto il componente e i componenti di cui c'è bisogno ok quindi mi faccio un ulteriore stato const diciamo error message devo decidere cosa ci tengo dentro set error message user state potrei fare un boolean ok potrei dire error set error false true però poi mi perdo la possibilità di specificare un messaggio perché una volta c'è il problema sulla data ma l'altra volta c'è il problema sullo score e così via quindi allora sono io che decido per non fare due stati il boolean più il messaggio che se il messaggio è la stringa vuota per me non c'è errore altrimenti ci sarà un errore e sarà scritto nella stringa qual è l'errore ok così a questo punto avendo lo stato prima di tutto posso andare a evitare che questo elemento compaia quando non c'è bisogno all'inizio non c'è errore come faccio a far sparire un elemento in jsx vi ricordate mi hanno detto che se un'espressione javascript quindi apro la graffa che dovrò chiudere qui se un'espressione javascript valuta a falso non compare quindi io qui se ho error error message punto interrogativo se sì quindi c'è scritto qualcosa quindi è diverso da stringa vuota c'è l'alert altrimenti due punti false ok false forse anche null va bene ma insomma adesso è sparito perché error message no no questa era di prima non c'entra niente ricarichiamo pure ma è sparito ok perché alert in questo momento è l'ultimo stato qui l'alert è stringa vuota ok e allora finalmente ho una maniera per specificare il messaggio di errore lo togliamo da questo console log apriamo ma no si può anche non aprire la graffa se togliamo il console log abbiamo solo una struttura set error message cosa mi ha scritto data invalidate no data non validate ok ok set error message proviamo vediamo se l'ha già ricaricato no però adesso l'ho messo required quindi devo togliere required se no non mi fa andare avanti ok via required salvo ricarico quindi adesso non c'è più required ha cambiato lo stato data non valida solo che io ho dimenticato ho lasciato il messaggio di prima attenzione errore ma io in quel messaggio ci metto quello che voglio infatti ci vado a mettere aperta graffa error message cioè l'ho scritto apposta e vorrei che comparisse no quindi riprovo data non valida ok e adesso come faccio a farlo sparire mi sta lì in eterno allora se andate a cercare visto che il tempo è sempre un po' tirano abbiamo ancora un po' però non voglio perdere troppo tempo su queste cose se andate a cercare negli esempi di react bootstrap con l'alert eccetera vedrete che c'è la possibilità di mettere un evento apposta che si chiama on close ok e anzi scusate prima l'attributo dismissible che ci fa comparire la possibilità di chiudere questo messaggio ok e poi nel momento in cui lo premiamo on close e mettiamo un event handler che gestisca questa operazione cioè per farlo sparire non basta che io premo sulla x devo cambiare lo stato della mia applicazione se non cambio il mio stato il render avviene sempre nella stessa maniera cioè io devo qui avere un handler fare set error message stringa vuota ok se non faccio questo non si resette l'errore cioè non si resette lo stato dell'applicazione andiamo a vederlo eccolo qui che me l'ha già aggiornato questo è il dismissible cioè c'è la x si può mandare via ma la x da sola non funziona la x funziona solo se quando premuto agganciate on close e ci mettete del codice che resetta lo stato dell'applicazione e fa sparire l'alert proviamo a farlo ok è sparito ok perché abbiamo cambiato lo stato dell'applicazione react ha visto che lo stato del componente è cambiato fatto il render del componente facendo il render del componente è ripassato di qua ha visto error message stringa vuota false fine non si visualizza più nulla ok se invece c'era il messaggio diceva ok alert e tutto quanto ecco il messaggio ok ottimo ho trovato una maniera di visualizzare gli errori che è sempre importante intanto abbiamo anche cominciato a ragionare su uno stato dell'applicazione che non è solo i dati che non è solo la lista delle risposte ci sono anche stati diciamo questo è un po' a metà tra una condizione di errore e se volete uno stato di presentazione perché devo anche presentare questo messaggio questa classificazione non è fondamentale però insomma devo essere un po' cosciente di dove metto queste informazioni questo stato di errore voglio che mi compaia non lo so chissà dove è nell'applicazione dovrò spostare lo stato e diventa più una condizione dell'applicazione cioè l'applicazione se non faccio questo è tutto bloccato o no devo un po' ragionare quando l'applicazione si complica se questo è uno stato più di applicazione quindi devo bloccare qualsiasi cosa oppure più una questione locale quindi può stare qui dentro vicino al form perché una volta che uno ha aggiustato il form aggiusta lo stato diciamo e si può andare avanti ma intanto può fare altre cose ok quindi dipende un po' da come volete strutturare voi l'applicazione va bene va bene if date ok se no potremmo ancora mettere else if quella condizione che facevamo prima no if is none parse int cos'era lo score set error message cos'è score non valido no mi manca una tonne da sì ok e va bene quindi adesso impostiamo la data poi tra un po' mi scoccio di impostare la data mettiamo un valore di default però adesso provo no cosa è successo score forse non ho salvato sì eh sì if is none present score dovrebbe venire fuori score non valido forse ho fatto qualche paciocco allora add perché non funziona vediamo se in console c'è qualcosa ecco c'è sempre qualcosa is none ah ho messo la minuscola none ok andate sempre a vedere la console nella console c'è sempre la risposta ai vostri problemi auspicabilmente l'esame in console non appare mai niente eh tranne magari qualche vostro console log proprio ogni tanto così perché me ne siete scordati uno però insomma ok allora score adesso non c'è nulla mi viene fuori score non valido ok io con la x resetto lo stato dell'error message lo score ce lo metto 4 il text il respondent per ora lasciamo vuoto non abbiamo fatto operazioni add e si crea l'oggetto no che stavolta la data e tutto quanto ok poi sono io che decido voglio non lasciare inserire le stringhe vuote nel respondent eccetera boh decido io come ho detto prima potete fare il required oppure potete gestirlo a voi a livello di codice questa è la cosiddetta validazione no qui faccio validation no form validation ok visto che funziona vi faccio un commit così al volo eh validazione form così chi segue col codice magari eh ce l'ha eh adesso facciamo l'ultimo pezzo cioè abbiamo i dati ce li abbiamo buoni dal form li andiamo ad aggiungere nella lista no la lista non sta in answer form allora come facciamo a modificare uno stato che non sta nel nostro componente vi ricordate l'altra volta cosa abbiamo detto abbiamo bisogno che qualcuno ci passi un callback da chiamare per andare a fare questa operazione sul componente dove effettivamente ci sta il form ok quindi andiamo sul componente dove sta il form scusa i dati volevo dire lo stato quindi in app andiamo in app i dati stanno in my table che anche ci viene comodo è anche quello che poi crea answer form quindi noi ci dobbiamo fare un metodo da passare una funzione da passare come attributo quindi che verrà visto come props al answer form quindi facciamoci tanto ci serve const add add row add row add answer chiamatela come volete che cosa ho fatto ho fatto qui fa lo stesso tanti questi nomi sono vostri interni decidete voi avevo scritto add to list facciamo add to list così è bello chiaro cosa fa add to list facciamo arrow function dai e che sarebbe l'oggetto che voglio aggiungere freccia vi ricordate come si fa a modificare uno stato che è sotto forma di array dobbiamo cambiare l'array quindi set ma ce l'abbiamo sopra no sopra c'è il delete set list funzione non nuovo stato perché dipende dal vecchio stato ma è sopra hold list freccia ritorniamo anzi nuovo array puntini puntini hold list virgola e ok fine fine creato nuovo array spread di tutto il vecchio ultimo e ovviamente qui abbiamo assunto che lo mettiamo in fondo ma poteva metterlo all'inizio poteva metterlo dove ci pare diciamo che mettiamo in fondo così si fa prima add to list a questo punto dove finisce deve finire come attributo di answer form perché io ne ho bisogno dentro answer form di chiamare questa funzione add to list gli do lo stesso nome per comodità ma potete chiamarlo come volete il nome che mettete a sinistra c'è questo qui sarà il nome della props disponibile in answer form quindi io qui salvo vado in answer form in answer form avrò una props quindi in answer form avrò props add to list non importa se non la suggerisce c'è e ok e l'ho già creato nella maniera che serve a me ok quindi vediamo se funziona se per console aperta allora devo impostare una data devo impostare uno score e c'è quel che non va no però me l'ha aggiunto ok c'è un warning ogni figlio in una lista deve avere una chiave unica key vi ricordate che in app dove è app abbiamo key e id e qui noi abbiamo undefined in questo momento perché l'id non l'abbiamo creato no questo è un problema un po' diciamo complicato da risolvere in questo momento perché perché in realtà noi l'id non lo creiamo non fate l'errore che fanno tanti all'esame con i progetti gli id gli id unici dei dati li crea solo il server noi se facciamo un giochino come questo cioè ci creiamo un dato sul client adesso si potremmo fare un hack trafficare non so prenderci il massimo più uno degli id che ci sono va bene però gli id li crea il server quindi quando faremo l'interazione con il server torneremo su questo problema adesso noi abbiamo bisogno di aggiustarlo temporaneamente quindi i miodi per aggiustare temporaneamente questa cosa sono solo due uno è molto anzi tre uno è metto un id metto un id che sono sicuro che non c'è però poi al giro dopo ho lo stesso problema quindi che so id meno uno ma perché faccio così cioè perché avevo messo tutti gli id positivi che sono sicuro che meno uno non ci sia però al giro dopo se ne aggiungo un secondo ci va di nuovo meno uno quindi si ha l'id ma è duplicato quindi torno al caso di prima ma perché ma perché non è mia competenza creare l'id mi da proprio fastidio creare l'id però cioè questo è una maniera che diciamo per l'aggiunta di uno vi risolve il problema temporaneamente cioè se voi provate adesso proviamo scusa mettiamo due default se no non finiamo più allora dove li mettiamo i default mettiamoli qua end date mettiamo la data di oggi dayjs format y y mm dd ok e nello score ci mettiamo 0 ok 0 o stringa 0 fa lo stesso perché il value comunque quando andiamo a prenderlo viene convertito dal componente a seconda di come ha bisogno ok quindi io adesso ci lascio 0 l'importante è che sappiamo quello che stiamo facendo poi anche all'esame se uno sa giustificare le cose ed è una cosa ragionevole va bene quindi se io faccio add adesso avete visto si è aggiunto e non mi ha proprio protestato ma se faccio un secondo add e occhio hai gli id duplicato c'hai 2 meno 1 ma perché perché mi scoccia proprio questo id allora la seconda cosa è calcolarsi un id unico ma questa cosa proprio non mi piace perché poi finisce che all'esame c'è qualcuno che rimane convinto che gli id nuovi si calcolano sul client e non voglio dare questa idea ok quindi non lo faccio anche se vi ho detto potrei mettermi qui in app crearlo qui l'id in app quando faccio add to list trovare un id unico e mettercelo ok in attesa di avere poi i dati corretti del server con l'id vero unico del server che prima o poi mi arriverà ma devo poter parlare con il server adesso non posso e allora faccio un'altra cosa guardate facciamo così e cambiamo qui torniamo sempre avanti e indietro mettiamo l'indice dell'array tanto in questo momento non ci cambia granché ok l'indice dell'array da dove esce è il secondo parametro della map della callback della map ok ma questo stiamo tranquilli che è unico perché 1 2 3 4 5 6 anzi 0 1 perché parte da 0 e qui stiamo sereni quindi facciamo sparire questa cosa ok e anzi ricarichiamo e però questa avrà cos'è che ho ho fatto qualche pasticcio salvando ah forse una virgola salva ah non ho salvato app ok ok quindi aggiungo uno aggiungo un altro aggiungo un altro qual è il problema no però non dovrebbero esserci problemi ah si il problema è che appunto se io cancello sulla base dell'id l'id era undefined e il bottone di delete mi ha preso tutti quelli che avevano undefined e quindi rivediamo quindi add add ne ho aggiunto i due ok questi due hanno anzi non hanno id perché io non l'ho più messo perché tanto ho risolto il problema che avevo di usare l'id per la chiave nella lista semplicemente con l'indice nell'array però l'oggetto mi rimane senza id e se io avevo fatto il bottone delete che vi ricordate il codice dell'altra volta andava a prendere l'id e tutto ciò che aveva l'id diverso restava ma tutto ciò che ha l'id uguale viene cancellato tutti e due sono undefined e tutti e due vengono cancellati io adesso ne cancello uno e si cancellano tutti e due quindi sono sempre soluzioni un po' crocchiate io proprio mi dà fastidio farvi vedere appunto come creare un id unico sul client perché poi ci si conviene che si crea sul client e invece va bene farlo ma solo temporaneamente in attesa di avere quello vero dal server ok ma diciamo che per ora trascuriamo un attimo questo problema ok noi abbiamo finito il nostro esercizio non abbiamo finito la lezione però finito l'esercizio nel senso che abbiamo un form controlled quindi quindi abbiamo gli stati dentro il componente che noi aggiorniamo ogni volta che vengono cambiati che controlliamo in fase di sottomissione con una validazione che è in grado anche di settarci un messaggio di errore che noi possiamo mandare via o meglio che l'utente manda via e possiamo aggiungere i dati effettivamente nella tabella quindi quando faccio add effettivamente vengono aggiunti e poi potrei gestirli al bisogno ok quindi giusto per ripassare appunto se io qui ci metto a adesso mi fa enter a number perché ho messo un numero va bene mettiamo uno no devo fare un'altra validazione va bene volevo ricordarvi solo che quando mettiamo un ecco facciamo una validazione che non c'entra che non potete fare in html ok else if parse int score non voglio partire con degli score negativi ok non voglio che sia negativo ok se è minore di zero set error message message score negativo non valido ok questo è un esempio eh che so boh perché mi sono sognato così che non voglio i score negativi dove vado a fare la validazione la faccio in fase di gestione di tutti i dati del forum sempre nell'endor submit ok quindi ricarico adesso ci metto meno 3 add score negativo non valido perché mi piace lasciare la x lì e non far sparire il messaggio perché è una questione di interfaccia utente no non diamo troppo peso a queste cose all'esame però bisogna anche che siano ragionevoli una scelta ragionevole è beh io lo lascio lì quando l'utente l'ha visto farà x e lo toglierà io do una maniera di toglierlo per dire l'ho visto ok e e questa è una possibilità un'altra possibilità potrebbe essere quella di mettere un timer avete il set timeout nel codice javascript e farlo sparire dopo un po' è quello che ogni tanto vi capita sui siti c'è un problema mi viene fuori un messaggio di errore e poi dopo un po' se non lo chiedete voi sparisce ci può stare possiamo farlo proprio bene farlo questo questo codice live quindi quindi diciamo che possiamo provare a farlo così ripassiamo un po' di javascript chiamiamolo standard set timeout cos'era set timeout end prima quindi l'end ce lo scrivo qui e cosa metterò per farlo sparire devo resettare il messaggio set error message vuoto virgola dunque cosa c'era il tempo 2000 2000 millisecondi ok si ok facciamo una prova giusto giusto per dirvi che potete fare quello che volete una volta che avete la possibilità di manovrare l'interfaccia da codice quindi meno 2 ok adesso faccio add compare l'errore e poi andrà via da solo se non faccio nulla ok è andato via da solo avevo le mani alzate eh ok mi sono arreso quindi potete fare tutto quello che desiderate c'è un event handler a un certo punto questo event handler si scatena modifica uno stato react è tutto automatico voi avete cambiato uno stato react si preoccupa di aggiornare l'interfaccia ok dovete solo fare un po' attenzione perché ogni cosa ha i suoi vantaggi ma anche i suoi potenziali problemi io cancello subito eh eh ok se ho cancellato subito ho già settato lo stato io a stringa vuota cosa fa il set timeout per fortuna non mi combina nessun pasticcio cioè mi risetta lo stato stringa che era stringa vuota me lo risetta dopo due secondi a stringa vuota e va bene spero che nel frattempo l'utente non abbia fatto altre cose eh perché se ci metto dieci secondi e l'utente nel frattempo pacciocca col form io creo un altro errore poi mi sparisce ok prima che l'utente che prima che effettivamente siamo passati dieci secondi quindi una soluzione ben fatta dovrebbe andare a togliere il set timeout se l'utente ha fatto x ok ma questo è un po' un po' macchinoso mi serve un ulteriore stato per avere riferimento alla set timeout sì per questa cosa qua si potrebbe generare un messaggio di error per ogni campo sì si potrebbe generare un messaggio di errore per ogni campo sì questa è una soluzione molto base nel senso io potrei decidere che l'error message non è una stringa è un array di string e allora ho una serie di errori che è quello che poi vi capita di solito sui siti ben fatti nel senso che quando quando voi andate a compilare un form fate submit aggiungi invia eccetera vi vengono fuori le caselle con gli errori caselle rosse con gli errori se è ben fatto se no vi viene fuori un messaggio tipo la tua data di nascita non è valida il cognome è troppo corto il cap è invalido eccetera vi viene fuori una lista di errori decidete voi come farli quindi in un caso sono io che mi faccio quella barra rossa in cui ci metto un array di string e quindi devo poi quando le visualizzo metterle bene quindi non so ho più barre oppure un'unica barra con tanti elementi con i paragrafi o qualcosa oppure posso provare a gestire l'errore sui form sui controlli del form se voi andate a cercare bene su react bootstrap questo si può fare io non l'ho fatto perché aggiungiamo un sacco di complicazioni che è fondamentalmente di visualizzazione e in questa mattina sapete che a lezione abbiamo sempre il tempo limitato diciamo cerchiamo di tenere cose semplici e di vedere i concetti ok però si può fare sapete che nei siti ben fatti voi vengono fuori i campi rossi dove c'è il problema quindi c'è una maniera di colorare questi campi dovete però andarla a cercare e fondamentalmente ci sarà un meccanismo con il quale potete passare un attributo agli elementi di react bootstrap per dirgli guarda questo è in condizione di errore oppure verifica se va in condizione di errore con questa callback non lo so adesso come l'hanno fatta non mi ricordo ok ok facciamo ancora un'ultima modifica non abbiamo tempo di fare l'edit come ci chiedeva l'esercizio ci penso poi se mettere online l'edit perché ha delle sottigliezze particolari magari ve lo metto online lo spieghiamo la prossima volta perché non abbiamo tempo di stare proprio tutto il tempo sui form ma sono importanti per questo ho voluto spendere un sacco di tempo su questo stamattina allora togliamo il set time out che non è fondamentale a meno che non è richiesto a noi all'esame va benissimo che l'utente visualizzi il messaggio e lo debba chiudere perché shh perché comunque diciamo diamo il tempo all'utente di leggere ecco quello che vorrei farvi su cui vorrei farvi riflettere che potremmo avere per esempio questo form che è un po' brutto avere una lista con un form subito sotto per raggiungere qualcos'altro soprattutto poi brutto come l'abbiamo fatto noi perché non ragioniamo sull'avere la possibilità di aprire e chiudere il form che è poi un passo interessante per anche farla diventare più bella poi l'applicazione successivamente come facciamo aprire e chiudere un elemento cioè farlo visualizzare o no l'abbiamo già fatto prima l'error message è un meccanismo di questo abbiamo bisogno di uno stato è uno stato di visualizzazione c'è una cosa aperta chiusa cioè visibile non visibile questa volta però siamo in table ok nulla ci vieta di fare const cos'è che avevo messo forse qui non c'era neanche l'hanno fatto con l'edit l'avevo messo lo faccio uguale perché poi magari show form set show form quindi è uno stato stessa cosa use state siccome qui c'è solo da visualizzare o no questo è proprio binario ci va bene il boolean all'inizio diciamo che è false non è visualizzato ok show form set show form falso all'inizio e qui e qui come prima show form punto interrogativo se sì ok altrimenti false ok benissimo eh però come lo apro devo sempre pensare a tutti gli stati possibili della mia applicazione c'è chi è che mette il set show form true ho bisogno di qualcosa cioè deve esserci non so un bottone aggiungi quel bottone aggiungi che avevamo l'altra volta no e quindi altrimenti non false ma mettiamo button button add add element non lo so non lo so quale che volete button e on click qui non posso scrivere set show form true devo mettere aperta e chiusa tonda freccia set show form true ok quindi questi sono in alternativa o c'è il bottone o c'è il form andiamo a provare se ho fatto un pasticcio o no non ho fatto un pasticcio perché me l'ha già ricaricato cioè add element se schiaccio viene fuori il form e adesso a farlo sparire e a farlo sparire mi faccio un altro bottone di fianco add solo che il bottone è dentro il form allora bisogno di una callback passata al answer form da chiamare quando uno schiaccia cancel per farlo sparire facciamolo proprio l'ultimissimo giuro è velocissimo ok quindi al answer form facciamo la come l'abbiamo chiamata chiamata close form la scriviamo direttamente qui tanto è facile set show form false ok mettiamo a capo così si legge bene e nell'answer form mettiamo il bottone button questo è un bottone normale quindi non ha bisogno di niente mettiamo variant uguale warning così viene giallo e mettiamo cancel e mettiamo on click props close form qui non abbiamo bisogno anzi è sbagliato passare dei parametri questo è il riferimento che abbiamo solo da chiamare ce lo chiama il click ok eccolo qua cancel add cancel ok vi potrà far schifo la grafica il giallo è un po' brutto lo cambiate colore il secco d'arriera grigio va bene ok tutto così eh gli stati governano la visualizzazione noi cambiamo gli stati react si occupa della visualizzazione dobbiamo aver scritto bene JSX in maniera condizionale sugli stati per decidere cosa visualizzare e cosa no ok direi se non avete dubbio domande giovedì ah c'è una domanda fermi tutti sì potremmo ecco questo è interessante add può anche essere un bottone normale sì si può anche essere un bottone normale e anzi direi quasi sempre finisce che lo facciamo un bottone normale ok però l'evento on submit va sempre agganciato perché non è solo il bottone submit che ci fa il submit ma anche l'invio nei campi di testo e tante altre cose ok quindi il form non ce lo possiamo scampare sarebbe bene non scamparlo perché perché così ci da l'on submit gestibile e ci da un momento di validazione quando abbiamo finito ok se lo trasformiamo in bottone non submit dobbiamo far chiamare con l'on click al bottone la handle submit noi a mano ok perché adesso è automatico cioè io qui non ho messo un click handle submit se diventa un bottone normale ci va un click handle submit ok grazie domanda molto interessante direi non ce ne sono altre finito quindi ci fermiamo vi metto subito online il codice giovedì laboratorio grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti